Beatrice Borromeo incinta, secondo figlio per Pier Casiraghi Beatrice Borromeo è incinta del secondo figlio. Secondo figlio in arrivo per Beatrice Borromeo e Pier Casiraghi. A quasi un anno dalla nascita del primo figlio Stefano, avvenuta a febbraio 2017, la principessa e giornalista è di nuovo incinta. . A dare la notizia è il settimanale Chi, nell'ultimo numero in edicola. . Proprio perché in dolce attesa, Beatrice e il marito hanno scelto di trascorrere un capodanno tranquillo, ast.Moritz. . La coppia, come fa sapere la rivista edita da Mondadori, si è ritagliata parecchi momenti di intimità nonostante la presenza di amici e parenti. . Per il momento i due non sono intenzionati a rendere pubblica la notizia della gravidanza, una prassi già adottata con il primo figlio, la cui dolce attesa è stata svelata solo in prossimità del parto. . Il secondo figlio di Beatrice e Pier non è l'unico bambino in arrivo nella famiglia di Monaco, Andrea Casiraghi e la moglie Tatiana Santo Domingo aspettano infatti il terzo figlio. . Le ultime dichiarazioni di Beatrice Borromeo alla stampa. Da quando ha sposato Pier Casiraghi, Beatrice Borromeo ha scelto di condurre una vita piuttosto riservata. Le ultime dichiarazioni alla stampa sono state quelle rilasciate al Corriere della Sera lo scorso ottobre. . Al quotidiano ha raccontato del parto, della nuova vita di molle e madre. 23 ore di travaglio. . Avevano fatto in tempo a venire tutti i miei amici da Milano e i miei familiari. . La sala parto era piuttosto affollata e ha confidato Beatrice che, in sala parto, ha avuto accanto il marito Pier Casiraghi. . La nuova vita di Beatrice Borromeo dopo il matrimonio. . Per amore del figlio di Carolina di Monaco, la Borromeo ha lasciato il lavoro a Il Fatto Quotidiano ed è andata a vivere nel Principato. . Mi sono accorta a un certo punto che quello che desideravo non era a Roma. . . Così ho preso la decisione più difficile della mia vita e l'ho lasciato. . . Non avrei potuto fare la corrispondente da Monaco e ha spiegato la 32enne. . 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